Il futuro degli sport motoristici sono auto sempre più appassionanti che utilizzano anche energie alternative. E contribuire per una guida più consapevole e sicura. E sostenere i nuovi campioni di domani, dando a tutti le stesse possibilità. Formando i giovani al fair play e alla lealtà dello sport. Noi di ACI ci impegniamo da più di 100 anni per consigliare e aiutare chi sta già guidando e chi lo sta ancora sognando. Grazie